Allora, l'editore che è qui di fianco a me, alla mia sinistra, il signor OM Edizioni OM è il nome della cassa editrice, uno chiamano Pedro Lafranco Ma quando uno fa l'editore si chiama così per forza, cioè quando c'è scritto Edizioni, la terza, il signor la terza, il signor Minerva, il signor mio, dico sempre qui Lei è il signor OM Edizioni Il simbolo primordiale della creazione Quindi siamo già a posto Quindi, introduzione breve al perché OM Edizioni, in realtà si chiama Alfredo Ha deciso di pubblicare un libro di Nando Balzano Tra l'altro non so chi è che abbia scelto la copertina La copertina è assolutamente bella, azzeccatissima, fatta bene, suggestiva Addirittura piena di luci belle, insomma è una bellissima foto Allora, ecco il signor Alfredo Il perché ho pubblicato questo libro su Nando di spiritualità E io, leggendo il suo libro, ho proprio riscontrato in Nando questo Io non lo conoscevo Nando, la sua grande fama di karateka non la conoscevo Però, quando mi è stato manoscritto, ho trovato in lui, nel suo manoscritto Grandi pezzi di spiritualità E allora, visto che io seguo tantissimo Iveda Dico, forse molto bene, Nando Oltre ad essere arrivato a me attraverso un caro amico Mi è arrivato proprio in una maniera proprio del tutto spirituale Allora, ho accettato di pubblicare questo suo libro E ringrazio tutti quanti voi per la vostra attenzione Che siete qui a partecipare a questo incontro Lascio la parola a tutti Perfetta l'intervento giusto, sintetico Delle editore, che abbiamo sentito degli editori delle volte parlare sette ore e mezza E gli altri andare via senza mai più lettere le letture Grazie a tutti